oh è morto è morto apri 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 dai e chi sta tu e apri mi serve una mano? ok con la canna da pesca perchè quanto toglie ma c'è stato un altro tizio nooo nevole tremone madonna che tremone la dalciccia qua nooo nooo oh spazio l'ho messo a polizona aiuto lui ma che stai facendo? ma che è successo? oh ma che ca... da dove? andiamo? adesso possiamo andare a far coin adesso possiamo andare a far coin adesso possiamo andare a far coin oh un altro un altro porca ma non ti coglioni ooooo ne ho uno bello è un testo non vieni il tremone che lancia le granate ooooo 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 ufff ufff ufff